Ciao, sono Daniel di... beh non posso ancora dirlo perché a breve uscirà il mio nuovo brand cucito su di me da Alessandro e il suo team. Da giugno ho deciso di dare una svolta alla mia attività di giardinaggio ed è per questo che ho acquistato uno dei suoi pacchetti corsi e devo dire che mi trovo veramente bene, sono fatti molto bene e mi stanno dando grandi spunti e grandi idee per come muovermi grandi suggerimenti anche per come affrontare le situazioni di giardinaggio e non essere uno dei tanti. Proprio per questo ho deciso anche di fare il grande salto e quindi di rivedere tutta la mia immagine aziendale partendo dal logo, dal sito web e tutto questo grazie alla professionalità di Alessandro e del suo team. Quindi quello che posso fare è quello di consigliare AgriCoach e Alessandro soprattutto a tutti i giardinieri che vogliono dare una svolta alla loro attività di giardinaggio e non essere più un giardiniere ma il giardiniere. Ciao!